benvenuti amici di ma non me lo compri e bentornati e benvenuti per i nuovi ciao a tutti un caro saluto io sono Ivan sempre felice di essere ospite qui sul canale di Samuele oggi andiamo a sbocsare questo dottor strange stile caricaturale oserei dire la Infinity Saga Iron Studios che le Iron Studios hanno un prezzo non proprio non proprio di poco conto esatto non proprio di poco conto se vi piacciono i video lasciate un like chi siamo per tutti i nuovi apriamo action figure abbiamo uno sponsor di comics and figures abbiamo uno shop vintage dove vendiamo cose vintage giocattoli recuperati eccetera eccetera e abbiamo Ivan che è la new entry incontrato in fiera ed è qua a sbocsare le cose come me perché gli piace molto si diverte molto giusto puoi dirlo fuori prima di aprire che io poi sono vado nel panico non ci guardiamo là dentro ma vi facciamo vedere la scatola di dottor strange nella della Infinity Saga è una statua ovviamente statica e come potete vedere come potete vedere stava volando via ed è abbastanza bella già la scatola è bella forse si potrebbe tenere chiusa se la facciamo trasparente in alto probabilmente uno poteva anche tenerla chiusa ma quanto pare dove sta il bello dell'apertura esatto ragazzi i comics and figure store link in descrizione vi trattano bene se gli dite che arrivate da mamma me lo compri i prezzi li trovate sempre sul sito mi raccomando si cazzo il box potevano impegnarsi un po' di più però cioè oh allora oh wow 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 sembra caruccio ti dico per considerando che non è una figura tra virgolette seria ma ha questo stile super de fond è fatta in più ci si fa toccare tocchiamo chi ci andiamo nel dettaglio in quattro cacca ma 4k 4k andiamo a vederla bene nel dettaglio una caricatura di dottor strange c'è chi può storcere il naso perché gli piacciono cose più reali tipo me e c'è chi invece di può piacere tipo magari a lui piace la caricatura perché molto comico e siamo qui con il dottor strange versione caricaturizzata ragazzi com'è questo dottor strange ora è alto un poco meno di una spa guarda abbiamo il metro lo misuriamo sulla sua pedanina che è esattamente di di 16 centimetri di centimetri dai allora qua lo possiamo osservare mentre sto usando un incantesimo per respingere l'attacco nemico gli occhi a me che sono gli occhi belli vividi azzurri vero non sono male che sono vero vedere più sotto lo facciamo vedere meglio gli occhi devo dire belli vividi non è male non è male poi con lo stile in cui sia poi bello compatto sento al tatto si è una classica bella modellata e devo dire che questa posizione va bene la sua quella più classica il capello lui non ha capelli bianchi sui lati in film no ma ce li ha anche qua ce li ha anche qua quasi si notano si notano però forse dovevano calcarli un po di più esatto uno strange giovane non lo so però forse dovevano calcare un po di più la parte non è mai stato uno molto fedele coi fan che gli fa le corna osservate il gesto delle cose osservate ragazzi il gesto delle corna del dottor strange eccolo ecco mi sta facendo le corna i fatti sai cosa sto nascondendosi dietro ovviamente così nessuno lo sgama esatto fai vedere un attimo la spalla che era una cosa interessante come l'hai girato prima guarda guarda che bello il dettaglio sul mantello si anche sul mantello guardate che bello come è disegnato bene c'è tutto pentitizzato rilievo e anche il colletto è molto figo il suo mantello è molto bello e anche tutta la parte del busto comunque dai guarda che andiamo un po più sotto ve la faccio vedere meglio guardate ragazzi cosa cosa ne pensate ovviamente scrivetecelo nei commenti ma non è assolutamente male è carina allora io non la terra in collezione perché non è una cosa che nel tuo stile diciamo non mi piace soprattutto perché secondo me non costa pochissimo adesso io non so il prezzo ma questa linea generalmente no era un studio sono non costa proprio pochissimo e diciamo che bello l'effetto del fuoco devo dire del circa di magia i suoi piedi del dioramino quello corruccio si è vero guardate guardate vedete questo effetto del fuoco intorno e anche il dentro io pensavo fosse una cosa più piatta invece da un bel effetto esatto e vediamo un po la roccia laterale che non è male ci mettiamo qua bella dai comunque allora per essere un piccolo una piccola statua è curata nel dettaglio cioè non è ma guarda anche le sfumature della della roccia dai ci sta ci sta ci sta sotto abbiamo ovviamente iron studios e marvel avengers e tutte le licenze che compongono questa bellissima statuetta allora io vabbè non andrei alle conclusioni finali allargando l'inquadratura non starei qua perché tanto c'è poco da dire la vogliamo tenere in collezione sarebbe una cosa cioè se me la regalassero probabilmente la terrei però io non la comprerei personalmente perché vado più per le cose realistiche forse ivan ti piace di più sì perché ho anche parecchi funko pop diciamo che sono già un po più stili sono metà strata ma una figura vera è questa quindi beh comunque anche funko pop sono super deforme dalla fine anche questo qui si può dire sia super deforme da me non dispiacerebbe averlo ti piace sì a me diverte questo stile fame per me piacevole agli occhi è un po cartonesco ci sono tanti a cui piace questo stile qua perché poi poi ai puristi queste cose farebbero sorgere il naso le appassionati di figure realistiche chiaramente io sono amante sia delle figure realistiche che queste qui un po più leggerine diciamo fatti più in leggerezza e belle belle diciamo che adesso io non so il costo andate a vederlo sul sito di comics and figure però in descrizione esatto però comunque diciamo che se vi piace il genere sappiate che può esistere questo dottor strange e potete averlo nella vostra collection per oggi è tutto chiudiamo così senza farci vedere nel muso salutiamo con la manina ciao ragazzi ci vediamo alla prossima puntata alla prossima